Il terremoto in casa 5 Stelle dopo la fuoriuscita dal movimento di Luigi Di Maio non provoca scosse nell'immediato a Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino ha assicurato che resterà all'interno del movimento e finora non si profilano cambiamenti nemmeno tra i consiglieri comunali. Nel civico consesso i pentastellati con 12 consiglieri sono attualmente depositari della maggioranza ma le carte potrebbero cambiare in caso di eventuali ripensamenti. Il capogruppo Michele Doro ha dato attualmente rassicurazioni in tal senso ma nei prossimi giorni le forze a 5 Stelle si incontreranno per discutere della situazione. Io da parte mia sono nato nel movimento 5 Stelle, il resto del movimento 5 Stelle, sabato c'è la convention regionale del movimento per avvicinarci alle primarie quindi i nostri impegni in questo momento sono questi qua e non abbiamo nessun dubbio di continuare su questa strada. In questo momento ci sono indicazioni da parte di qualcuno che potrebbe uscire dal movimento? No non mi risulta. In questo momento addirittura tutti i deputati regionali della Sicilia sono tutti nel movimento 5 Stelle, non ha aderito nessuno all'iniziativa di Luigi Di Maio che devo dire sia Luigi Di Maio sia la Castelli e tanti altri amici che hanno deciso di lasciare il movimento 5 Stelle li ho chiamati amici perché tali sono. Con Luigi e con Laura nella qualità di ministro e viceministro abbiamo collaborato in maniera molto attiva per la nostra città e io ho sempre detto che al centro della politica di un sindaco ci deve stare la città per cui non vi nascondo che c'è certamente una tristezza nel perdere gli amici ma hanno scelto di prendere un'altra strada e io rispetto la loro scelta. Certamente è stata una situazione in cui non ci saremmo mai voluti trovare anche se un po' era nell'aria da alcune settimane. È chiaro che adesso dovremo un po' valutare la situazione tutti noi. Non c'è stato ancora, ve lo dico subito, un confronto nel gruppo. È meglio prendere le cose con calma e valutare bene. Certo se noi consiglieri ci dividessimo tra Di Maio e Conte certamente non sarebbe una situazione felice per il nostro comune. Cercheremo come ogni volta di fare il bene della comunità e io penso, penso, è un mio orientamento almeno personale che il Presidente Conte merita una chance.